Caccia al via 16 settembre, ma senza un definito piano faunistico. Se infatti la stagione apre i battenti proprio domenica in Emilia Romagna, tuttavia un programma venatorio, soprattutto relativo al controllo dei cinghiali, non è stato ancora approvato ed è atteso da circa tre anni. Questo è quanto denunciato dalla col diretta Emiliano Romagnola, la quale sottolinea che, in assenza di nuove norme in merito, non sarà possibile frenare il proliferare di questi suini. L'associazione regionale di categoria rivela anche che, dal 2000 ad oggi, i cinghiali sono addirittura raddoppiati nel nostro territorio, raggiungendo i 150 esemplari. Col diretti calcola inoltre che, nel corso dell'ultimo anno, gli animali selvatici hanno procurato alle aziende agricole regionali danni per più di 2 milioni di euro, 700 mila dei quali dovuti ai cinghiali. Alle critiche mosse dall'associazione di categoria ha risposto l'assessore regionale all'agricoltura, Simona Caselli, la quale ha evidenziato che la regione ha da tempo avviato un articolato ventaglio di azioni di contrasto al cinghiale, che prevedono la caccia di selezione per 11 mesi l'anno. Caselli ha anche replicato che con il nuovo calendario è stata ampliata la caccia collettiva, imbraccata o ingirata, a 5 giorni alla settimana rispetto ai tre precedenti.